Salve a tutti e benvenuti su questo nuovo video. Oggi vedremo come integrare su una tastiera con USB il pulsante del power. Ma prima di far questo ragioniamo un po' su quali sono le cause, le necessità e i motivi. Innanzitutto dobbiamo dire che nei vecchi mindboard c'era l'opportunità di avviare il window direttamente dalla tastiera con una combinazione di tasti e questo grazie alla presa PS2. Con l'andare del tempo la presa PS2 che è questa qua è stata sostituita dalla presa USB. Sia le tastiere che anche i mindboard escono di fabbrica con la porta USB. Ritroviamo l'opzione wake up cioè avvia il window tramite la tastiera solo nelle ultime generazioni di mindboard ma non più con PS2 ma tramite USB. Perciò abbiamo un varco di 4-5 anni tra i vecchi mindboard e i nuovi mindboard dove l'opzione wake up non è più reperibile. Qualcuno potrebbe chiedersi ma scusa perché avviare il window dalla tastiera se possiamo farlo direttamente dal tower? Ebbene la domanda è legittima. Infatti nella maggioranza dei casi non c'è alcuna necessità di attivare il window tramite la tastiera. Però che dire se il nostro pc si trova lontano oppure in una posizione scomoda da arrivare. O che dire se siamo in uno studio musicale dove il pc è isolato sia termicamente ma anche per il rumore e quindi è impossibile da arrivare per attivarlo. Bene proprio in questi casi e forse in altri casi l'opzione wake up tramite tastiera è qualcosa di utilissimo. Come soluzione ci sono due opportunità. La prima è quella di comprare un adattatore PS2 a USB e la seconda è quella di inserire il pulsante direttamente sulla tastiera. Cosa che ho fatto. Adesso vi mostrerò il procedimento. Grazie a tutti. Perfetto inseriamo il cavetto usb e adesso sostituiamo lo spinotto del pulsante power. Perfetto abbiamo inserito l'usb lo spinotto per il pulsante power. Non resta che provare. E' arrivato il grande momento. Perfetto ragazzi la modifica è andata a buon termine. Se vi è piaciuto il video potete mettere un like. Per questo e altri video che seguiranno in futuro potete iscrivervi al canale. Ciao a tutti e benvenuti su questo nuovo video. Oggi vedremo un po' come... Salve a tutti e benvenuti su questo nuovo video. Oggi... Salve a tutti e benvenuti su questo nuovo video. Oggi... Con l'andare del tempo... Con l'andare del tempo... Con l'andare del tempo le testiere quindi per una svariata gamma di board l'opzione del BIOS quindi per una svariata gamma...quindi abbiamo un varco tra le vecchie test...quindi abbiamo un varco tra le vecchie test...quindi abbiamo un varco tra le vecchie test...quindi solo...solo nelle nuovissime generazioni di...solo nelle nuovissime...solo nelle ultime generazioni di mindboard...tra i vecchi mindboard e i nuovi mindboard dove l'opzione WAKE UP non è più reperibile...reperibile...qualcuno potrebbe chiedersi ma perché accendere...qualcuno potrebbe chiedersi quindi come soluzioni ho pensato...quindi come due soluzioni ho pensato no...a due opportunità...cuindi Adesso vi mostrerò il procedimento che ho sviluppato. Adesso sostituiamo lo spinotto del pulzante power e adesso sostituiamo lo spinotto del pulzante power e adesso sostituiamo e adesso sostituiamo. Perfetto abbiamo inserito lo S qui, lo spinotto per il pulsante power e il grande momento. Il grande momento, è arrivato il grande momento. Perfetto ragazzi, il pulsante ha funzionato, che devo dire? Grazie per aver guardato questo video e se vi è piaciuto potete mettere...